Perché ci sono delle cose che non posso rivelare, quindi ci sarà l'induce, naturalmente lo sapete, il grande induce che è diventato allogeneo in Abruzzo e un pochettino anche qui nelle macchie, ci sarà lì che farà la conduzione, una cosa la posso dire, ci saranno degli ospiti a sorpresa di comici che mi hanno detto di non rivelare, e in più cosa vuol dire, una cosa la posso dire anche io, vi visiterò qualche vecchia parzelletta, qualche vecchia poesia del grande Aldo Fabrizio, del cibo che ha fatto appunto, che è bellissima poesia, anche Covid, e diverte in fortuna la riproporre a quella sera, questo lo posso dire. E sono 15 giorni che sta studiando quello, mi posso? No, vabbè, poi canzoni a te, ma insomma, vabbè, sarà molto divertente, quindi non perdetevi questa occasione, perché sarà veramente molto divertente. Grazie.